I consiglieri provinciali di Cosenza dell'APD, Umberto Bernaudo e Pietro Paolo Ruffolo, sono stati arrestati e posti ai domiciliari da Dia e Carabinieri nell'ambito dell'operazione denominata Terminator. I due consiglieri sono accusati di corruzione e corruzione elettorale. Il giudice per le indagini preliminari distrettuali di Catanzaro, Livio Sabatini, ha escluso l'aggravante delle modalità mafiose che era stata chiesta dalla DDA nella proposta di misura cautelare. A Bernaudo e Ruffolo, nella loro qualità rispettivamente di ex sindaco ed ex assessore del Comune di Rende, viene contestato di aver assunto nella società partecipata Rende e Servizi familiare ed esponente della cosca dell'Andrangheta Lanzino Presta di Puppo, che opera nel territorio cosentino in cambio del sostegno elettorale in occasione delle elezioni provinciali del 2009. La 3 Salerno-Reggio Calabria è sbarcata oggi al Parlamento europeo per una presentazione che a un anno dalla conclusione dei lavori vuole risaltarne il ruolo cruciale per l'Italia e per la stessa Unione europea. La Salerno-Reggio Calabria ha un'importanza strategica, affermato durante la conferenza l'amministratore delegato dell'ANAS Pietro Ciucci ha consentito di rompere l'isolamento di vaste aree del mezzogiorno e costituisce un anello essenziale nel corridoio Helsinki-La Valletta. Viste le ombre che sono addensate sull'opera, non ultimi 382 milioni di euro di aiuti comunitari recuperati dall'Olaf, l'ufficio antifrode dell'Unione europea e la presenza dell'esercito per alcuni mesi nei cantieri, Ciucci ha voluto sottolineare l'impegno sul fronte anche della legalità. Dove si muovono grandi capitali bisogna prendere forti precauzioni, ha ricordato Ciucci, indicando in particolare la tracciabilità dei movimenti finanziari, il sistema di controllo dei cantieri e dei materiali. Gianni Pittella del PD, vicepresidente del Parlamento Unione europea e cofondatore di Meseuro, il centro studi che ha organizzato l'evento ha ricordato che soltanto tramite le infrastrutture fisiche e materiali l'Italia e l'Europa possono recuperare competitività e coesione, un appello che arriva mentre l'Unione europea si è bloccata nei difficili negoziati sul prossimo bilancio comunitario 2014-2020. La Calabria parteciperà al Salone della Giustizia che si terrà il 29 e 30 novembre prossimi a Roma. Lo ha reso noto nel suo intervento al Reggio Calabria alla presentazione del progetto Gerbera Gialla il presidente del Consiglio regionale Franco Talarico. È un modo per poter spiegare, ha aggiunto, che cosa la Calabria ha fatto in questi anni per diffondere l'educazione alla legalità e cercare di trasferire valori fondamentali alle nuove generazioni perché è attraverso la cultura e lo studio che si è liberi. Il sindaco di La Mezzia Terme Gianni Speranza ha scritto una lettera al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Corrado Passera, all'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato Mauro Moretti e ai parlamentari calabresi per chiedere chiarimenti in merito alla notizia che sta circolando in questi giorni, grazie anche alla denuncia degli onorevoli Nicodemo Oliverio e Franco Laratta, secondo la quale, dal prossimo anno, la stazione centrale di La Mezzia Terme potrebbe essere trasformata in semplice fermata ferroviaria. Lo snodo ferroviario di La Mezzia Terme afferma Speranza, oltre ad essere strategico nel sistema regionale e nazionale dei trasporti ferroviari, sia in termini di passeggeri che di movimentazione merci, è fondamentale sia sulla dorsale tirrenica, sia nel collegamento con Catanzaro e nello snodo rapido con la dorsale ionica. Essendo così significativo, ci si aspetterebbe piuttosto un intervento di potenziamento di questa infrastruttura che è importante per l'intera regione e non la sua trasformazione in semplice fermata ferroviaria. L'assessore regionale alle attività produttive Antonio Caridi ha presiduto a Sante Eufemia da Spromonte un incontro per promuovere le azioni attivate dalla Giunta a sostegno del sistema economico e produttivo calabrese. All'iniziativa alla quale è intervenuto anche il sindaco Domenico Creazzo erano presenti anche rappresentanti istituzionali di attività imprenditoriali, di associazioni di cittadini. Prima dell'inizio dei lavori Caridi ha avuto un confronto con l'amministrazione comunale che ha voluto esporre alcune esigenze prioritarie del territorio connesse a tematiche legate allo sviluppo nei vari settori. Nel suo intervento l'assessore Caridi, dopo aver sottolineato che il suo impegno è finalizzato soprattutto a colmare il gap che storicamente si è creato tra la politica e i territori, ha affermato che il Dipartimento regionale sarà sempre disponibile per qualunque tipo di iniziativa relativa alla possibilità di partecipare ai bandi per le agevolazioni alle imprese di prossima pubblicazione ed ha fornito informazioni sulla possibilità di accedere a forme di credito agevolato attraverso alcune misure come il fondo Jeremy o il mezzanino. È un pasticcio, così si è espresso a proposito di come sta avvenendo il riordino delle province e il segretario del PD Pierluigi Bersani in occasione della sua recente visita a Crotone. Una chiara presa di posizione che apre uno spiraglio concreto alla possibilità di un riordino delle province che metta al centro dell'iniziativa parlamentare la centralità della persona e che tenga in debita considerazione le esigenze dei territori e la necessità di mettere i cittadini, a prescindere se abitano in province grandi o piccole, nelle stesse condizioni per soffrire dei servizi dello Stato e quanto ha affermato il deputato del PD Nicodemo Oliverio. Sono convinto, ha detto Oliverio, che un vero riordino dell'organizzazione territoriale dello Stato non può che partire dalla necessaria riflessione sulle funzioni che devono essere esercitate dagli enti locali nel loro complesso. Ogni scorciatoia porta diritti al baratro istituzionale. Per questo Pierluigi Berzani si è mostrato preoccupato dalla confusione che si sta creando nei territori. Accorpare qua e là non va bene. Per queste ragioni parteciperò sabato prossimo 17 novembre alla manifestazione di piazza indetta dal Comitato Crotone Provincia.